storia duna serva di fattoria il tempo era talmente bello che quelli della fattoria avevano mangiato più in fretta del solito per far ritorno prima nei campi nella grande cucina rose la serva era sola nel camino si stava spegnendo quel che rimaneva del fuoco sotto il pentolone dell'acqua calda lei ne prendeva un po ogni tanto e con quella lavava i piatti fermandosi a guardare due quadratini luminosi che il sole attraverso la finestra stampava sulla lunga tavola in cui si vedevano i difetti dei vetri sotto le sedie tre artite galline cercavano briciole aromi di aia tiepidi odore di stalla entravano dalla porta aperta a metà in silenzio di quel mezzogiorno ardente si udivano i galli che cantavano finito di rigovernare asciugata la tavola spazzato il camino e rimessi i piatti sullo scaffale in fondo alla stanza vicino all'orologio di legno dal sonoro tichettio la ragazza respirò un po stordita con una prensione di cui non sapeva il motivo guardò le pareti annerite e le travi affumicate del soffitto da cui pendevano ragnatele salacche e reste di cipolle poi si sedette disgustata dai soliti odori che il calore della giornata faceva esalare dal pavimento in terra battuta dove s'erano seccate tante cose versate negli anni vera mescolato anche un acrio odore di latte che inacidiva al fresco della stanza vicina avrebbe voluto mettersi a cucire come al solito ma non ebbe la forza e andò sulla soglia dell'uscio per prender aria in quel momento accarezzata dalla luce calda sentì che nel cuore le scendeva una gran dolcezza che le membra si lasciavano penetrare da un vago benessere davanti alla porta il letamaio esalava di continuo un lieve vapore luccicante le galline si rivoltolavano adagiandosi su un fianco e grattando un po con una sola zampa alla ricerca di vermi in mezzo a loro si ergeva il gallo bellissimo ogni tanto ne adocchiava una e la corteggiava girandola intorno con un leggero chiocchio lio di richiamo la gallina si alzava con non curanza e lo riceveva tranquilla piegando le zampe e reggendolo sulle ali poi scuoteva le penne facendo uscire la polvere e tornava a sdraiarsi sull'etamaio mentre il gallo cantava enumerando le sue vittorie amorose da tutte le aie gli rispondevano gli altri galli quasi per una sfida da una fattoria all'altra la serva li guardava senza pensare a niente poi alzò lo sguardo e rimase abbagliata dal fulgore dei meli fioriti candidi come teste incipriate all'improvviso le passò davanti al galoppo un puledrino pazzo d'allegria per due volte girò attorno ai canaloni alberati poi si fermò di colpo e volse la testa quasi stupito di essere solo anche lei provava un gran bisogno di correre di muoversi e nello stesso tempo di sdraiarsi a terra stendendo tutto il corpo e riposandosi all'aria calda e ferma a occhi chiusi mosse qualche passo invasa da un benessere animalesco poi andò a cercare le uova nel pollaio ce n'erano tredici le prese e se le portò via appena le ebbe riposte nella credenza fu da capo infastidita dagli odori della cucina e allora uscì per andare a sedersi sull'erba l'aia della fattoria circondata dagli alberi sembrava assopita i fiori gialli delle bocche di leone splendevano come lumi sull'erba alta d'un verde carico il verde nuovo della primavera l'ombra dei meli si prolungava ai loro piedi sui tetti di stoppia delle scuderie e dei granai s'alzava un fumo leggero come se l'umidità fosse filtrata attraverso la paglia e lì presso c'erano gli ireos con le rodofoglie simili a spade la serva andò sotto la tettoia dove si riparavano carretti e barrocci proprio lì davanti nell'incavo del fossato c'era una gran buca verde piena di viole che spandevano il loro odore e oltre quelle prode si scorgeva la campagna un pianoro dove crescevano le messi disseminato di gruppi d'alberi ogni tanto in lontananza c'erano anche gruppi di contadini piccini come le figure del presepe e cavalli bianchi simili a giocattoli che tiravano un aratro da bambini guidato da un ometto altoondito andò nel granaio a prendere un mannello di paglia e lo buttò nella buca per sedervisi ma non stava comoda e perciò lo sciolse ne sparse la paglia e vi si sdraiò supina le brazza sotto la testa e le gambe lunghe distese assopita in un delizioso abbandono chiuse pian piano gli occhi era proprio sul punto di addormentarsi quando sentì che due mani le prendevano i seni di scatto si rizzò era jacques un ragazzone di piccardia un bel giovanotto muscoloso che da un po di tempo la corteggiava quel giorno stava lavorando nell'ovile l'aveva veduta sdraiarsi all'ombra ed era arrivato senza far rumore trattenendo il respiro gli occhi lucidi e qualche filo di paglia tra i capelli cercò di baciarla ma la ragazza forte quanto lui gli dette uno schiaffo e lui chiese perdono con un fare sorgnone allora si sedettero l'uno vicino all'altra e cominciarono a chiacchierare da bravi amici parlarono del tempo favorevole al raccolto dell'annata che si annunciava promettente del padrone che era un brav'uomo e poi del vicinato di tutto il paese di loro stessi del villaggio dov'erano nati della loro infanzia dei loro ricordi dei genitori che avevano lasciato da tanto tempo e forse per sempre lei a quei pensieri si commuoveva lui sempre con quell'idea fissa in testa le si avvicinava le si strisciava addosso fremente e colmo di desiderio lei diceva non vedo la mamma da tanto tempo si soffre a star separati tanto a lungo il suo occhio smarrito guardava in lontananza nello spazio sino al paesino che aveva lasciato lassù nel nord improvviso lui la strinse al collo e la baciò di nuovo ma lei lo colpì col pugno in pieno viso e così forte da fargli sanguinare il naso lui si alzò e andò a appoggiare la testa contro un tronco allora lei si impietosì si avvicinò e gli chiese ti fa male lui scoppiò in una bella risata no non era niente ma l'aveva colpito proprio nel punto giusto mormorava è un diavolo e la guardava con ammirazione preso da un rispetto da un nuovo sentimento dall'inizio d'un amore vero per quella ragazza forte e solida quando il naso smise di sanguinare le propose di far due passi insieme temendo se le fosse rimasto troppo vicino il rude pugno di lei ma allora proprio la ragazza lo prese sotto brazzo come fanno i fidanzati quando alla sera se ne vanno a passeggio per il corso e gli disse non devi stimarmi tanto poco Jacques lui protestò non era vero che la stimasse una da poco era innamorato tutto qui allora mi sposeresti disse lei egli allora esitò poi la osservò senza farsi vedere mentre lei aveva lo sguardo fisso in chissà quali lontananze aveva le guance rosse e piene ad un ampio seno che rigonfiava il percal della blusa labbra turgide e fresche e la gola era punteggiata da goccioline di sudore fu ripreso dal desiderio e così le disse pian piano all'orecchio certo che lo voglio allora lei gli buttò le braccia al collo e lo baciò così a lungo che rimasero tutti e due senza fiato l'eterna vicenda dell'amore cominciò così da quel momento tra loro agli angoli oscuri si facevano scherzi si davano appuntamenti al chiaro di luna dietro un mucchio di fieno e si facevano lividi alle gambe sotto la tavola con i loro scarponi chiodati poi poco a poco parve che Jacques fosse sazio di lei la evitava non le rivolgeva più la parola o quasi non cercava più di rimanere solo con lei ella fu invasa da dubbi e da una tristezza smisurata sino al momento in cui dopo un po' di tempo si resse conto d'esser rimasta incinta da principio si disperò poi fu presa da una collera che aumentava di giorno in giorno dato che non riusciva di vederlo tanta era la cura con cui lui evitava gli incontri finalmente una notte mentre tutti stavano dormendo nella fattoria ella uscì senza far rumore in sottana e scalza attraverso l'aia e spinse la porta della scuderia dove Jacques se ne stava disteso su una gran balla di paglia proprio sopra i cavalli poiché l'aveva sentita arrivare egli finse di russare ma Rosa si arrampicò sino ad arrivare vicino a lui e lo scosse fino a che fu costretto a tirarsi su quando si fu alzato e messo a sedere chiedendo che vuoi lei disse a denti stretti tremante di furore che voglio voglio che mi sposi poiché me l'hai promesso egli allora scoppiò ridere e rispose ma davvero se uno dovesse sposare tutte le ragazze con cui ha fatto qualcosa starebbe fresco allora lo prese per la gola e l'atterrò senza che potesse liberarsi dalla stretta selvaggia lo stava strozzando mentre gli urlava in faccia sono incinta hai capito incinta jacques ansimava prossimo a soffocare rimasero entrambi immobili muti nel cupo silenzio turbato solo dal rumore delle macelle d'un cavallo che strappava un po di paglia dalla rastrelliera e la masticava lentamente jacques capì che era lei la più forte e sussurrò se le cose stanno così va bene ti sposerò ma lei non credeva più alle sue promesse e disse subito fai subito le pubblicazioni lui annui subito giuralo su dio egli esitò un attimo poi si decise lo giuro su dio allora lei aprì le dita della mano e senza dir più niente andò via per qualche giorno non le fu possibile parlargli e dato che la scuderia veniva chiusa a chiave tutte le notti non si arrischiava a fare una scenata per timore dello scandalo finché una mattina vide sedersi a tavola un altro cartone allora domandò jacques è andato via sì disse l'altro ci sono io al suo posto fu presa da un tremito tanto forte che non riusciva più a sganciare il calderone quando tutti andarono al lavoro salì nella sua stanza e pianse col viso sotto il guanciale per non farsi sentire durante la giornata cercò di informarsi senza destare sospetti ma il pensiero della sua disgrazia la tormentava al punto che sospettava di suscitare un riso malizioso in tutti coloro a cui si era rivolta e d'altra parte l'unica cosa che venne a sapere è che se n'era proprio andato via secondo cominciò per lei una vita di continuo tormento lavorava macchinalmente senza pensare a quel che stava facendo con un'idea fissa in capo guai se venissero a sapere quest'ossessione continua non le permetteva più di ragionare sicché non cercava più in quel modo evitare lo scandalo che sentiva approssimarsi ogni giorno di più irreparabile e sicuro come la morte tutte le mattine si alzava molto prima degli altri e con un accanimento testardo si sforzava di osservarsi i fianchi in un pezzetto di specchio rotto che le serviva per pettinarsi nell'ansia di rendersi conto se in quella giornata gli altri potevano accorgersi del suo stato e nel corso del giorno interrompeva di continuo il suo lavoro per osservare dall'alto al basso se l'ampiezza del ventre le sollevasse troppo il grembiule i mesi passavano non parlava quasi più e se le domandavano qualche cosa non capiva impaurita con lo sguardo ebete e le mani tremolanti questo faceva dire al padrone povera figlia a un po di tempo sei diventata scema in chiesa si nascondeva dietro un pilastro e non aveva più il coraggio di confessarsi per paura del parroco a cui attribuiva poteri sovrumani come quello di poter leggere nelle coscienze se i compagni a tavola la guardavano lei si sentiva morire e aveva sempre paura che il suo segreto venisse scoperto dal vaccaro un ragazzone precoce e sornione che le stava sempre con l'occhio puntato addosso una mattina il postino le consegnò una lettera non ne aveva mai ricevute e ne fu tanto sconvolta che dovette mettersi a sedere forse era di lui ma non sapeva leggere cosicché rimase ansiosa e tremante davanti a quel foglio vergato di inchiostro non osando confidare a nessuno il suo segreto se lo mise in tasca spesso interrompeva il lavoro e si metteva a contemplare quelle righe regolarmente distanziate che terminavano con una firma immaginando nella sua confusione che all'improvviso le si sarebbe rivelato il significato alla fine prossima a impazzire per l'impazienza e l'inquietudine andò dal maestro di scuola che la fece sedere e le disse mia cara figlia la presente per dirti che mi sento molto giù il vicino mastro Dentu ha preso la penna per dirti di venire se puoi per la tua affezionata madre César Dentu vice sindaco lei non spicciò una parola e andò via ma appena sola si lasciò cadere sull'orlo della strada con le gambe come spezzate e vi rimase sin che fece buio quando l'incasò raccontò la sua disgrazia al padrone che la lasciò andare per tutto il tempo che voleva promettendo di far eseguire le sue incombenze da una ragazza aggiornata e di riprenderla al ritorno sua madre era in agonia e morì il giorno stesso del suo arrivo il giorno dopo l'os partorì un bambino settimino un orrendo e magrissimo piccino sembrava in continua sofferenza perché contraeva dolorosamente le manine scarne come le zampe di un granchio eppure sopravvisse e la raccontò d'essersi sposata ma di non poter prendersi cura del bambino che lasciò da certi vicini i quali promisero di trattarlo bene ritornò alla fattoria nel suo cuore tanto ferito si fece una luce nuova un ignoto amore per la misera creaturina che aveva lasciato laggiù e anche quell'amore era una nuova sofferenza un patimento d'ogni ora ed ogni minuto dato che era separata da lui ne attormentava soprattutto un pazzesco desiderio di baciarlo di stringerlo tra le braccia di sentirsi sulla pelle il calore di quel corpicino la notte non dormiva e pensava a lui tutto il giorno la sera terminato il lavoro si sedeva davanti al fuoco con lo sguardo fisso di chi ha i pensieri molto lontani cominciarono persino a far chiacchiere sul suo conto a scherzare sull'innamorato che doveva avere certamente a chiederle se era bello alto o ricco e quando avrebbero celebrato le nozze o il battesimo scappava spesso per andare a piangere in solitudine perché quelle domande le penetravano nella carne come aghi anche per distrarsi da quelle noie iniziò a lavorare con furia e continuando a pensare al figlio cercò di trovare un modo per mettere da parte parecchio denaro per lui decise di lavorare tanto duramente che avrebbero dovuto aumentarle la paga a poco a poco assunse per sé tutti i lavori e fece licenziare una serva divenuta inutile visto che lei sfacchinava per due cominciò a risparmiare sul pane, sull'olio, sulle candele, sul becchime che si gettava ai polli in quantità esagerata sul foraggio del bestiame che in parte andava sprecato diventò avara col denaro del padrone come se fosse stato suo e mentre faceva acquisti vantaggiosi cominciò a vendere caro quel che usciva dalla fattoria e a rendere inutili le furberie dei contadini che venivano a offrire i loro prodotti si incaricò di tutti gli acquisti e delle vendite assunse la direzione dei braccianti e si caricò anche dei conti riguardanti le provviste in breve divenne indispensabile esercitava un tal controllo attorno a sé e sotto la sua direzione la fattoria prosperò meravigliosamente per una decina di chilometri latorno non si faceva che parlare della serva del padron Valen il padrone diceva soprattutto questa ragazza vale tanto oro quanto pesa eppure il tempo passava e la paga era sempre la stessa il suo lavoro era considerato come qualcosa dovuta da una qualunque brava serva un semplice segno di buona volontà cominciò allora a pensare con un po' di amarezza che se il padrone grazie a lei incassava cinquanta o cento scudi in più ogni mese lei continuava a prendere i suoi duecentoquaranta franchi all'anno né uno di più né uno di meno decise di domandare un aumento andò per tre volte dal padrone ma quando era davanti a lui parlava d'altro a richiedere soldi provava una specie di pudore come per una richiesta vergognosa finalmente un giorno che il padrone stava mangiando da solo in cucina gli disse piuttosto imbarazzata che voleva parlargli a tu per tu stupito e gli alzò la testa poggiando le mani sulla tavola una col coltello a punta in aria l'altra con un pezzo di pane e la guardò dritto negli occhi lei si sentì turbata da quello sguardo e chiese un permesso di otto giorni per andare al suo paese dato che si sentiva poco bene anche lui era un po' turbato glielo concesse subito e aggiunse anch'io debbo parlarti quando torni il bambino stava per compiere otto mesi ella non lo riconobbe era diventato rocio, paffuto, tondo, tondo come un mucchietto di grasso vivente i suoi ditini per i cuscinetti di carne cominciavano a muoversi lentamente con una gioia evidente lei gli si gettò addosso come su una preda con lo slancio d'una bestia e lo strinse tanto forte che lui cominciò a strillare spaventato allora lei cominciò a piangere perché non la riconosceva e tendeva invece le braccia alla balia appena la vedeva ma sin dal giorno dopo s'era abituato al viso di lei e rideva nel vederla se lo portava in campagna scorrazzava per di fiato reggendolo con le braccia tese si sedeva all'ombra degli alberi e poi per la prima volta nella sua vita apriva il cuore ad un altro anche se non era capita gli raccontava le sue pene e il suo lavoro le noie e le speranze sino a straniarlo con la violenza accanita delle sue carezze provava una gioia infinita a toccarlo a lavarlo a vestirlo era felice persino di pulirlo della sua cacchina come se quelle cure intime fossero la conferma della sua maternità lo guardava sempre stupita che fosse suo e giocando col suo corpicino tra le brazza ripeteva a se stessa pian piano è il mio piccino il mio piccolino durante la strada del ritorno alla fattoria non fece che piangere appena arrivata il padrone la chiamò in camera sua lei ci andò stupita e turbata senza sapere perché sediti là le fece lui lei si sedette e per qualche istante rimasero così uno vicino all'altra impacciati entrambi con le brazza inerti e improvvisamente pesanti senza guardarsi in faccia come sono soliti fare i contadini il padrone il padrone un uomo grande e grosso sui 45 anni già vedo due volte dove ale testardo era a disagio evidentemente cosa insolita per lui alla fine si decise e prese a parlare con un tono mal sicuro balbettando un pochino e fissando un punto come se fosse prossimo a un grave pericolo lui aspettò un attimo e proseguì vedi una fattoria non può andare avanti senza padrone neanche con una serva brava come te e tacque non sapeva più cosa dire rose lo guardava con la faccia spaventata di chi crede di trovarsi davanti a un assassino e si preparava a scappare al suo primo gesto finalmente dopo cinque minuti lui domandò e allora ti va come stupidita lei rispose mi va cosa padrone e lui con un tono seccato ma di sposarmi per dinci rose saltò di scatto e ricadde sulla seggiola come senza forze rimanendovi senza muoversi quasi fosse stata colpita da una sciagura il padrone perse la pazienza ma insomma che cosa vorresti ella lo guardava smarrita improvvisamente le lacrime le salirono agli occhi e ripetè per due volte con la voce strozzata non posso non posso perché non puoi chiese l'uomo via non fare la scema hai tempo sino a domani per pensarci e s'affrettò ad allontanarsi soddisfatto d'averla finita soddisfatto d'averla finita con quella richiesta che lo imbarazzava parecchio e sicuro che il giorno dopo la serva avrebbe accettata una proposta per lei superiore a ogni speranza per lui era un ottimo affare dato che così si assicurava per sempre una donna che gli portava di certo molto più della maggiore dote rintracciabile in paese fra loro non potevano esserci scrupoli in quanto in campagna non si bada alla differenza di condizione tutti sono più o meno uguali il padrone sgobba come garzone che il più delle volte diventa a sua volta padrone un giorno o l'altro e di continuo ci sono serve che diventano padrone senza che per questo vi sia un mutamento qualsiasi nella loro vita o nelle loro abitudini quella notte Rose non dormì cadde a sedere sul letto senza nemmeno la forza di piangere tanto era affranta se ne stava ferma ferma senza nemmeno sentire il corpo il cervello era come se non l'avesse come se gliel'avessero schiacciato con uno di quegli strumenti adoperati dai cardatori per sfilacciare la lana dei materassi soltanto a tratti riusciva a fare dei tentativi di ragionamento e il pensiero di quel che poteva accadere la spaventava i suoi terrori aumentavano e ogni volta che nel silenzio sonnolento della casa la grossa pendola della cucina batteva le ore con solennità e venivano i sudori freddi si sentiva andar via di testa gli incubi si susseguivano e quando la candela si spense cominciò a delirare il suo era uno di quei deliri fatti di smanie tipico della gente di campagna che si crede colpita dalla jettatura provava un pazzo desiderio di scappare di andar via di correre avanti alla disgrazia come un vascello davanti alla burrasca una civetta fece sentire il suo richiamo lei trasalì si alzò si passò le mani sulla faccia tra i capelli si tastò il corpo come una pazza poi discesa al pian terreno col passo di una sonnambula arrivata sull'aia si mise carponi in modo da non essere vista da qualche vagabondo campagnolo infatti la luna sul punto di sparire faceva una luce viva sui campi anziché aprire il cancello seguì la proda del fossato e quando fu in aperta campagna cominciò a camminare di buon passo marciava dritta con un trotto elastico e veloce ogni tanto senza farlo apposta emetteva un grido stridente allungata al suo fianco la sua ombra correva con lei per terra e qualche volta un uccello notturno scendeva a rotearle sulla testa nei cortili delle fattorie abbiavano i cani che la sentivano passare uno saltò il fossato e la seguì per morderla ma lei si rivoltò e urlò così forte che la bestia spaventata si andò a rannicchiare nella sua cuccia se un gruppetto di lepri folleggiava in un campo l'arrivo di corsa della donna simile a una diana in delirio lo costringeva a sbandare i piccoli e la madre si rannicchiavano in un solco mentre il padre continuava a zampettare a velocità folle talora la sua ombra saltellante con le grandi orecchie dritte passava in corrispondenza della luna al tramonto che si stava tuffando chissà dove e illuminava la pianura con la sua luce obliqua come un'enorme lanterna poggiata a terra sull'orizzonte nelle profondità del cielo scomparivano gli astri gli uccellini cominciavano a cinguettare poiché stava nascendo il giorno anerava ed era sfinita la ragazza quando il sole trapassò l'aurora di porpora ella si fermò i piedi gonfi non la reggevano più vide una palude una grande palude in cui l'acqua stagnante sembrava sangue ai riflessi rossastri del nuovo giorno e a piccoli passi zoppicando la mano sul cuore andò a tuffarvi le gambe si sedette sulla terra si cavò gli scarponi insaccherati si infilò le calze e immerse i lividi polpacci nell'acqua immobile dove a tratti scoppiavano bollicine d'aria dai talloni al petto salì un delizioso refrigerio e improvvisamente mentre era intenta osservare la profonda palude fu presa da una vertigine dal furioso desiderio di immergirvi si completamente la dentro avrebbe finito di patire avrebbe finito per sempre non pensava più al suo piccino voleva pace e completo riposo un sonno senza fine si alzò con le brazze in alto e fece due passi avanti stava affondando sino alle cosce ed era pronta già a buttarsi quando brucianti trafitture alle caviglie la fecero saltare indietro mandando un grido disperato dalle ginocchia alle punta dei piedi certe lunghe mignatte nere le stavano succhiando la vita e incollate alla sua carne si gonfiavano enormemente non aveva il coraggio di toccarle e urlava dall'orrore le sue grida disperate fecero arrivare di corsa un contadino che passava da quelle parti col suo carro lui strappò le sanguisughe ad una ad una curò le piaghe con delle erbe e riportò in braccio la ragazza fino alla fattoria del padrone fu costretta a letto per quindici giorni la mattina che si alzò mentre se ne stava seduta davanti all'uscio arrivò improvvisamente il padrone e si piantò davanti a lei disse allora siamo d'accordo da principio ella non rispose ma poiché quelli rimaneva lì in piedi fissandola ostinatamente ella mugolò con una certa fatica no padrone non posso lui diventò subito una furia cosa vuol dire che non puoi che cosa vuol dire lei cominciò a piangere ripete non posso allora sei un ganzo tremando di vergogna ella sussurrò forse ce l'ho rosso come un papavero l'uomo balbettava incollerito e me lo dici pure puttana e chi sarebbe questo merlo uno straccione uno con le pezze al culo un mendicante un morto di fame insomma chi è dimmelo e poiché lei non rispondeva non me lo vuoi dire e allora ti dico io chi è jean boudou esclamò no lui no allora è pier martin oh no padrone lui elencò a caso tutti i giovanotti del paese mentre rose negava sfinita asciugando di continuo le lacrime con un angolo del grembiule turchino ma il padrone continuava a cercare con ostinazione selvaggia frugando nel cuore per scoprire il segreto come un cane da caccia è capace di raspare in una tana per una giornata intera per acchiappare la preda che intuisce nel fondo a un tratto l'uomo proruppe perbacco deve essere Jacques il garzone che c'era l'anno scorso lo dicevano tutti che vi parlavate e che veravate fidanzati rose sentì che stava per svenire un fiotto di sangue la fece arrossire in viso le lacrime cessarono di colpo asciugandosi sulle guance come gocce d'acqua sul ferro caldo esclamò no non è lui non è lui ne sei proprio sicura chiese il furbo contadino che cominciava ad annusare un briciolo di verità e rispose con precipitazione ve lo giuro ve lo giuro cercava qualcosa su cui giurare non osando invocare cose sacre un padrone la interruppe ti inseguiva ti inseguiva dappertutto a tavola ti mangiava con gli occhi di ti sei promessa a lui questa volta lei guardò l'uomo in faccia no mai vi giuro sul buon dio che se ora venisse a chiedermi non lo vorrei sembrava tanto sincera che il padrone esitò aggiunse quasi tra sé e allora se ti fosse capitato un guaio si sarebbe saputo e dato che non ci sono state conseguenze una serva non può rifiutare il padrone soltanto per questo e allora c'è sotto qualche cosa angosciata lei non rispondeva il padrone chiese ancora proprio non vuoi lei sospirò non posso padrone e lui andò via credete di essersi liberata e trascorse il resto della giornata quasi in pace ma dolorante e stremata come se fin dall'alba l'avessero messa al posto del vecchio cavallo bianco da far ruotare la macina che batteva il grano se ne andò a dormire appena poté e s'addormentò di colpo fu svegliata nel mezzo della notte da due mani che brancicavano il suo letto sussultò spaurita ma subito riconobbe la voce del padrone che diceva non avere paura rose sono io e vengo solo per parlare da principio rimase stupita poi mentre lui cercava di infilarsi sotto le lenzuola capì che cosa volesse e cominciò a tramare forte sentendosi sola nel buio ancora mezzo addormentata completamente ignuda nel letto accanto a quell'uomo che la desiderava di certo di certo non lo accettava ma resisteva fiaccamente lottando le stesse contro l'istinto che ha una grande potenza negli esseri semplici mentre la proteggeva scarsamente la volontà sempre indecisa in queste nature molli tirava la testa ora da una parte ora dall'altra per evitare il contatto con la bocca dell'uomo che cercava la sua il suo corpo si divincolava appena sotto la coperta stremato dalla fatica di dover lottare lui inebriato dalla voglia matta era diventato brutale con un gesto rapido la scoprì ed ella capì che non avrebbe potuto opporre resistenza col pudore di uno struzzo e la nascose il viso tra le mani e non si difese più il padrone passò la notte con lei tornò la sera successiva e poi ogni notte vissero insieme una mattina le disse ho fatto le pubblicazioni gli sposeremo il mese prossimo lei non rispose che poteva dire non si oppose che poteva fare lo sposò e sembrava ad essere in un baratro dagli orli inaccessibili da cui mai sarebbe potuta uscire con tutte le sagure possibili sospese sul suo capo come macigni pronti a precipitare alla prima occasione sembrava di aver derubato suo marito e temeva che prima o poi egli se ne sarebbe accorto poi rivolgeva i pensieri al figlio causa di ogni sua disgrazia ma anche della sua felicità su questa terra lo andava a trovare due volte l'anno e ogni volta tornava più triste tuttavia con l'abitudine le sue apprensioni andarono diminuendo il suo cuore si placò viveva più tranquilla anche se nell'animo le rimaneva sempre un vago timore gli anni passarono il bambino stava per compierne sei ora lei era quasi felice quando improvvisamente l'umore del padrone della fattoria divenne ancora più cupo già da due o tre anni sembrava pervaso da un'inquietudine come se si tenesse in corpo un gran cruccio un morbo dello spirito che aumentava poco a poco dopo cena restava a lungo a tavola la testa tra le mani e triste triste divorato da un dispiacere parlava con volgarità qualche volta con brutalità sembrava addirittura che nutrisse contro la moglie ora ancora segreto perché succedeva che si rivolgesse a lei con estrema durezza quasi con rabbia un giorno che il figlioletto di una vicina era venuto a prendere delle uova e lei affacendata com'era lo trattava senza troppi complimenti suo marito comparve all'improvviso e le disse con voce piena d'astio se fosse tuo non lo tratteresti così le fece molta impressione non fu capace di rispondergli e ritornò a casa ripresa dalle pene ed una volta lui non le rivolse nemmeno una parola a tavola non la guardò sembrava che l'odiasse che la disprezzasse che fosse venuto a conoscenza di qualche cosa fuori di sé Rose non ebbe il coraggio di rimanere sola con lui dopo mangiato scappò correndo verso la chiesa a nottava la navata stretta era buia ma nel fondo rintronava un passo verso il coro dove il sacrestano preparava il lume del tabernacolo per la notte quella tremula fiammella spaurita tra le tenebre notturne della volta apparve alla donna come un'ultima speranza e con lo sguardo fisso a lei si buttò in ginocchio con rumore di catene il lumicino salì in alto poco dopo il tonfo regolare di un paio di zoccoli risuonò sul pavimento seguito dallo sfregamento di una corda pensolante l'esile campana mandò l'angelus della sera tra le nebbie che si infittivano mentre il sagrestano stava per uscire rose lo raggiunse c'è il signor parroco domandò le fu risposto certo che c'è all'angelus se ne va a casa lei spinse il cancelletto del presbiterio tremava il prete stava per andare a tavola la invitò subito a sedersi so di che si tratta vostro marito mi ha parlato del motivo che vi porta qui la povera donna si sentiva mancare il sacerdote aggiunse che volete farci figliuola mia mentre mandava giù in fretta cucchiaiate di minestra si sbrodolava sulla sottana unta e visunta e rigonfia sulla pancia rose aveva perso il coraggio di parlare di implorare di supplicare si alzò il parroco disse coraggio e lei uscì tornò alla fattoria senza rendersi conto di quel che stava facendo il marito l'aspettava i braccianti erano andati via durante la sua assenza si gettò a terra pesantemente davanti a lui e gemette singhiozzando che cos'hai contro di me lui si mise a urlare bestemmiando per dio oh che non ho figli uno non prende moglie per rimanere solo fino alla fine dei suoi giorni ecco quello che ho una vacca che non fa vitelli non vale un bel niente e quando una donna non ha figli vuol dire che non vale un bel niente neanche lei lei piangeva e ripeteva balbettando non è colpa mia non è colpa mia lui si rabbonì e soggiunse non dico per te ma insomma è sempre una brutta cosa da quel giorno ebbe un solo pensiero fare un figlio un altro raccontò a tutti il suo desiderio una vicina le consigliò un rimedio far bere tutte le sere a suo marito un bicchiere d'acqua con un pizzico di cenere lui acconsentì ma senza risultato si dissero eppure ci deve essere qualche segreto e cominciarono a chiedere vennero a sapere ad un certo pastore che abitava a una quarantina di chilometri da lì padron Valen un bel giorno attaccò il calesse e andò a consultarlo il pastore gli dette una pagnotta su cui fece dei segni una pagnotta impastata con delle erbe dovevano mangiarne un boccone ciascuno durante la notte prima e dopo i loro congiungimenti tutta la pagnotta fu consumata senza che succedesse nulla un maestro di scuola rivelò loro altri segreti operazioni amorose sconosciute in campagna e secondo lui infallibili niente il parroco consigliò un pellegrinaggio al preziosissimo sangue di fechamp rosa andò con una marea di gente a genuflettersi nell'abazia e mescolando la sua supplica ai desideri grossolani che nascevano dal cuore di tutti quei contadini chiese a colui che tutti imploravano di renderla feconda ancora una volta invano allora si convinse che quella era la punizione per la sua prima colpa e ne provò un immenso dolore l'indispiacere la consumava e anche il marito invecchiava dicevano che si mangiava il sangue tormentandosi dietro fallaci speranze tra i due scoppiò la guerra lui la copriva di ingiurie e la picchiava non faceva che litigare tutto il santo giorno e anche la sera a letto ansimante e astioso le buttava in faccia oltrazi e oscenità una sera infine non sapendo più cosa escogitare per farla soffrire maggiormente le impose di alzarsi dal letto e di andare ad aspettare che facesse giorno davanti all'uscio di casa sotto la pioggia poiché non obbediva la prese per il collo e cominciò a tempestarla di pugni in faccia e non fiatò non si mosse il marito fuori di sé le saltò in ginocchio sul ventre e pazzo di rabbia coi denti serrati la stava accoppando allora lei ebbe uno scatto di ribellione disperata lo le spinse contro la parete con un gesto di pazza ira e rizzandosi a sedere gridò con una voce nuova simile al sibilo ma io io ce l'ho un figlio ce l'ho l'ho fatto con Jacques te lo ricordi Jacques doveva sposarmi e se n'è andato l'uomo l'uomo abbasito rimace immobile sconvolto come lei e balbettava che stai dicendo che dici allora Rose cominciò a singhiozzare e attraverso le lacrime che grondavano sussurrò per questo non ti volevo sposare per questo non te lo potevo dire perché mi avresti cacciata insieme al piccino sei tu che non riesci a fare figli non lo sapevi eh non lo sapevi con stupore crescente lui ripeteva come un automa tu hai un figlio hai un figlio tra i singhiozzi lei disse mi hai voluta con la forza te lo ricordi questo io non ti volevo sposare a questo punto lui si alzò accese la candela e si mise a passeggiare per la stanza con le braccia dietro la schiena buttata sul letto Rose continuava a piangere d'improvviso le si fermò davanti e così sarebbe colpa mia se non ti ho fatto fare figli lei non rispose il marito riprese a camminare poi fermandosi di nuovo domandò quanti anni ha tuo figlio lei mormorò sta per compiere sei anni il padrone chiese ancora perché non me l'hai detto e lei gemette come facevo il marito era in piedi immobile disse andiamo tirati su Rose si sollevò con fatica una volta in piedi appoggiata al muro lo vide scoppiare in una gran risata improvvisa la sua forte risata dei giorni felici mentre lei era ancora sconvolta aggiunse lo andremo a prendere questo bambino dato che noi due non siamo stati capaci di farne lei provò una paura così forte che se ne avesse avuto la forza sarebbe fuggita via ma lui si fregava le mani borbottando volevo adottarne uno e adesso l'ho trovato l'ho bello e trovato avevo chiesto al parroco un orfanello sempre ridacchiando baciò sulle guance la moglie piangente e stupidita e gridò come se lei fosse sorda su mamma andiamo a vedere se c'è un po' di minestra ne manzerai volentieri una scodella Rose si infilò la sottana e scesero giù mentre lei riaccendeva il fuoco sotto la pentola lui felice continuava a camminare in lungo in largo per la cucina ripeteva ah sì mi fa proprio piacere non faccio per dire ma son contento proprio contento grazie a tutti